Pronto? Giuseppe tu adesso mi devi raccontare come è andato a finire ieri la faccenda della crapa. Come io a finire Francesco? Come ti bevamo allora e cucinano un po' di crapa. Hai capito? E come faccio? E come faccio? Hai visto su per due fuoco. Due fuoco come tutta la riva? E io viva, ma la pigliaia è morta morta. Pigliaia la crapa? No, non morse di crapa, ho comprato un pezzo di crapa. Ah hai comprato la crapa morta, non viva ma ammazzi tutto. Carne morta mangiamo. Esatto. E allora come la preparaste? Mi ha messo sull'atiela, sull'atiela, l'atiela. Mi può dare aggiungo? Gli ho messo acqua e l'ho fatta bollire un bel pozzettino così si ha spurgato tutta quella... Il grasso e l'odore. Tutta quella cosa che c'aveva, l'odore. Facci troppo? Poi l'ho messo nelle scolamatte e l'ho scolato. L'ho scolato tutta bella bella, l'ho fatto scolare. Poi l'ho messo dentro con birra. Con birra? Con birra. Birra? Ma birra di... ci vuole una birra speciale, no? No, no, è un birra normale. Poi l'ho fatto solo fare un altro pozzo, ho scolato, ho messo whisky e l'ho fatto asciugare. Nella pentola stessa. Nella pentola stessa. Ho preso la cipolla, molto cipolla e l'ho messo dentro. Ho messo un po' d'olio, cipolla, ho picchiavi pure un po' di vasalicò, due foglie di alloro e l'ho messo dentro. E l'ho fatto friggere e ripentare rosolino la cipolla. Ah, ho capito. Hai rosolato. Quando ho fatto rosolata la cipolla con la carne insieme, no? Sì. Ho messo pomodoro. Pomodoro? Pezzettini di pomodoro crudo. Sì. Poi ho messo un po' di salsa. Salsa, ho capito. Per vedere più su cosa. E l'ho fatto bollire. Vini, come vini? Benissimo. Buona, proprio saporita. Si hanno leccate pure le latte. Pure i baffi. Io ho messo pure un peperoncino poco poco, quanto per... Leggermente per campina. E che ne voleva di più se ne metteva. Certo. E allora a crappa vuole cucinare la tessa maniera? Eh, ci vuole pacienza. Questa è la tua regione. Ci vuole pulizia. Sì. E allora? Ci vuole pulizia tutto per bene e allora si cucina la crappa bene. Va bene Giuseppe. E siamo a posto. Siamo a posto, vedi che questa intervista sarà pubblicata in tutto il mondo. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. 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 Ciao.